Allora, dai venite, Marco, Marco il nostro, sta facendo qualche foto, allora io volevo ringraziare un po' tutti quanti, i signori che sono intervenuti oggi in queste scuole con nominato prima, Emanuela, Simone, Cristina, Sonia, Marco e anche noi, che ci siamo pure noi. Poi un ringraziamento particolare lo farei anche a Franco del Piccolo Rencio che ci permette di fare queste belle manifestazioni. Poi un applauso anche a quello che è stato in pranzo, insomma, perché sembrerebbe che è andato tutto bene. Grazie Franco, grazie Gianna, che era abbondante, tornerete, tornerete. Allora, io mi sono permesso di fare un pensierino a queste scuole che hanno partecipato, questa è un'iniziativa mia. Sì, aiutate. Se qualcuno non me la girate. Allora, Cristina e Simone, se la potete aprire, poi dopo ci facciamo la foto con la cosa fai. Quella che non c'è è la mia. Emanuela, questa è per te. Questa è per il mio grande amico Marco. Questa è la tua. E questa è la mia. E allora, le scuso con l'orchestra, perché io vorrei ringraziare anche l'orchestra, facciamo un grande applause a loro. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, chi ha preparato queste tarte non ha fatto il tempo a prepararle per l'orchestra e per il Piccolo Rencio. Tranquillo. Le farò fare in settimane e vi giuro che le porto alla prossima. Non mancherà l'occasione, Claudio. Grazie, grazie. Ok. Che dire? Grazie a tutti. Allora, adesso abbiamo organizzato di fare un balletto tutti quanti insieme. Se tutte le scuole, tutti quanti possono partecipare tutti, ci mettiamo in pista. È un balletto che abbiamo comunicato prima, perciò lo conoscono in tanti. Lo faremo tutti insieme, così chiudiamo questa bella manifestazione e poi facciamo qualche salto libero. Ok? Dai ragazzi, tutti in pista, via. Appena siamo pronti...